La protesi poi va pulita a casa in un certo modo. Qua ci sono poi tutti i vari tipi di igiene che va fatta, la profilassi domiciliare, abbiamo tutto un protocollo che si segue, non ti devi inventare nulla. Noi sappiamo che quello è il protocollo, questo è quello che insegniamo agli igienisti. Anche gli igienisti gli insegniamo questo protocollo, glielo stampiamo, mettetevelo sulla testiera del letto, a concheletto, si dice, è quello, non uscire fuori dal protocollo perché tanto ci sono 24 anni di esperienza lì. L'hanno già fatti gli errori e li hanno anche riparati. Quello che va utilizzato a casa, ve lo faccio vedere ora con questi attrezzi che avete di fianco. Prendete il primo attrezzo in alto a... Ve ne do un'altra magari qua, giusto per vedere, però stiamo preparando anche gli altri modellini. Ci sono diversi attrezzi con diverse forme. Abbiamo un set di spazzole, un set qua di scovolini. Qualcuno li conosce, gli scovolini, perché avendo la piorrea li ha usati per pulire tra i denti. Ok, c'erano degli altri tipi di attrezzi tipo questi, che vanno bene per pulire magari quando si incastra qualcosa, però il grosso diciamo che lo fate con le setole, proprio con queste setole qua, che ci sono di tre diverse forme. Le più importanti sono queste tre. Ok, vi troverete nell'area anche il link, li potete comprare qua, li potete comprare in Italia, li potete ordinare da Amazon. Questi non è che li consumi, cioè questi durano. Li compri una volta, però questi sono questi attrezzi. Uno, questo dritto, come questo, viene utilizzato per pulire i denti tra la gengiva e il colletto, proprio. Infatti è uno spazzolino sottile. Ok, questo serve proprio a pulire questa zona. Implanto orto, lo trovate su Amazon, costa penso due euro. Ok, non è un grosso investimento, però è l'attrezzo corretto. Da utilizzare. E serve, e potete fare anche questo lavoro qua. La protesi è meglio che utilizzate, per esempio, questo qua, il tepe, che ha le setole molto sottili, di modo che non la va a graffiare la protesi. Ok. Ha delle setole morbide, fate dei movimenti rotatori, così accarezzate la protesi e portate via la pastella dopo che mangiate. non devi andare a graffiare con degli strumenti molto duri, rigidi. Provate a toccare gli ultimi due verso il lato destro. Sentite la durezza. Quale è che graffia la protesi e quale no? Questo quando c'hai i denti. Con i denti naturali usi questo. Non è vero, anche con i denti naturali sempre questo. Questo ve l'ho fatto mettere nel kit per capire cosa non dovete usare. Toccatelo perché lo memorizzerete per sempre. Se lo sentite così morbido, i migliori sono gli spazzolini che hanno le setole di pelliccia di tasso, non so come si chiama, così morbida. Anche su chi non ha gli impianti. Ultra soft questo. Ultra soft è il migliore. Questo sarebbe il meglio. Sì, vi spiego perché è il migliore, quello soft. Perché vi ho fatto vedere prima che la sporcizia si può accumulare vicino alle connessioni degli impianti. Se noi facciamo dei movimenti rotatori, queste setole entrano tra il solco della gengiva e la parte meccanica e la lucidano. La portano via. Fate dei movimenti di vibrazione così queste si flettono come i capelli entrano dentro la gengiva. E la lucidano. Se devi andare vai. Poi, dello spazzolino. Se non ti ricordi quando hai cambiato lo spazzolino, è il momento di cambiarlo. Ok. Questa è la regola. Se vedi che sono molto tutto aperto così, cambialo. Deve essere rigido, un minimo. Questo è l'attrezzo due mesi più o meno. Dipende da quanta forza ci vai. Questo è l'attrezzo per la parte interna. Ok. Se lo mettete nell'acqua calda, bollente, questo lo potete anche piegare di più. Questo braccetto qua. Questo si chiama, ok, Universal Care. Cioè, poi lo possiamo comprare qui, per cui non c'è bisogno di caldo. Questo va a pulire la parte interna, che è la parte più difficile da accedere. Movimento laterale o diversi movimenti? Sempre così, laterale. Laterale. Non fate questo perché tanto ti sbatti sulla lingua e basta. Laterale, così. È importante che pulisci la parte interna. Vi ho fatto vedere anche l'altro esterno che era un movimento orizzontale. C'è una fessura, praticamente, che voi dovete pulire. La fessura che c'è tra gengiva e protesi. Quella va pulita. Poi rimane da pulire la parte dietro. Questa parte posteriore, ok, ce n'è di due tipi. Compact tooth. Ok, compact tooth. Ce n'è anche un altro che però è a punta. Voi prendete questo con la punta rotonda. Vi aiuta a pulire la parte posteriore. Specialmente i pazienti che hanno 14 denti. Ok, lo dico per quei pazienti che montano 14 denti, che i denti vanno ancora più in fondo, l'arcata non riescono a pulire bene lì dietro, con lo spazzolino classico. Questo ce la fanno. Se invece si stappa una vitina come questa, vi ho detto prima, non è un problema questo. Vai con questo e togli il cibo se c'è andato cibo dentro. Poi quando hai tempo che è da passare da, te lo fai tappare. Mette, indurisce con la lampada e tappare. Un tappatore provisorio? Sì, allora, se avete questi fori, andate in farmacia, vendono per pochi euro la pasta, la stessa che usa il dentista, che si chiama il cavit, pasta da otturazione provvisoria. La prendi con un dito, la metti sul foro e tiri via col polpastrello e rimane. E rimane. E rimane. Questa la consigliamo anche a quei pazienti che dobbiamo mettere questa pasta, il cavit, pazienti che la dobbiamo togliere ogni quattro mesi. A casa c'hanno quella, se si stacca, metti il tappo al tappo. A me era successo di fare uno ed era molto fastidioso. Meglio poter avere accesso alla protesi che no. Perché ricordate, ne abbiamo parlato a volta scorsa, che sono tutte cose artificiali che si possono rompere. Quindi se noi sappiamo questo, dobbiamo anticipare i problemi, non creandocene ulteriori, ma anzi creando le porte d'uscita. L'altro strumento importante che dovete utilizzare, questi sono per pulire la protesi. Se vi rimangono denti e avete fatto lavori misti, comprate anche il kit di scovolini, per andare a pulire tra un dente e l'altro. Ma si può aggirare con l'idropulsore? Dopo ne parliamo, questa è un'ottima domanda. Questa cosa serve? È un rastrello. Questo qua, quando fate così, vi rimane qua una gelatina acida, che è la causa di tutti i mali. Ok, sulla lingua, specialmente chi ha la lingua fissurata, c'ha le criptolinguali che sono piene piene dei batteri, e questi protogliccano, che è un gel proprio, che non penetra neanche il colluttorio dentro. Dovete rimuovere... No, però, questi batteri, questi batteri, è lattiginoso, è lattiginoso come dopo che mangiate lo yogurt, ok? Se voi passate, c'avete lì dentro tutta questa gelatina, dentro ci sono i batteri che producono l'acido lattico, che attivano poi gli allarmi del sistema di difesa, che sono quelli che poi attivano la perimplantite. E' proprio lo yogurt che compriamo. E' uguale. Ma questo qui... Questo c'è di diverse marche, ok? No, no, ma anche questo, lo devi laccare così nel... Lo lavi, lo metti nell'acqua con bicarbonato, la cosa migliore è con un po' d'aceto. Ma come lo conservi? Che io ce l'ho... Questi? Allora, un consiglio. Questi, mettetevi dentro un astuccio e portatelo sempre con voi, ok? Perché, ovunque, in borsetta oppure vi fate il borsello. Ma sono incappati singolarmente? La disinfezione la fai dopo che hai pulito col colluttorio, col secondo punto di quel protocollo, ok? No, questi agg, sì. Questi agg, sì, li puoi mettere capovolti un po', ma... Comunque non li vai a sterilizzare, capisci? Questi qua servono solo a fare la rimozione meccanica. Poi la disinfezione, che non è la sterilizzazione, la devi fare con i colluttori. I colluttori ci sono di tre categorie, ne parliamo solo due perché una mi sa che neanche c'è in Italia, è comunque molto costosa. Li trovate al secondo punto, igiene chimica, e sono il... Adesso abbiamo parlato della prima parte, che è l'igiene meccanica. Igiene meccanica. Io non vi ho parlato di idropulsore, ok? Perché? Gli scovolini, no, ti assicuro che ci sono pazienti che hanno spazi così larghi, tra i denti, te l'assicuro. Quindi dipende dallo spazio che uno ha tra i denti? Non è che vai in farm... Sì, meglio, questi non servono. Ma ve li ho messi perché non tutti hanno le arcate complete, ci sono molti pazienti che ancora hanno mantenuto dei denti, ma bisogna avere nel kit questi attrezzi per mantenerli. Se no mantieni bene la protesi e perdi gli altri. Quindi chi ha un altro tocco dei denti, le userà tutto il ciclo giusto, ovviamente. Chiedi... Allora, manca una cosa che non vi ho fatto vedere, perché ve la voglio mostrare direttamente sulla slide. Dove è che ce l'ho la slide? Eccola qua. Andiamo all'igiene meccanica. Questi sono tutti gli strumenti che puoi usare poi, vedi, l'igienista per andare a staccare il tartaro. Questi a voi non interessano. Questi sono gli spazzolini, ne abbiamo parlato. Eccolo qua. Fila interdentale. Lo spazzolino con l'elettrico? No. Zero? No. Non è consigliato? No. Ok, la zona... Quando tu vedi i denti artificiali, pensi che devi pulire i denti. In realtà la parte critica è la linea tra la gengiva. Non sono denti naturali quelli. Quello è plastica, non si caria. Oppure zirconio, non si caria. O ceramica, non si caria. Quello dove si attaccherà il tartaro? Vicino la linea? Qua. Qua si attaccherà il tartaro. Qui sopra. In questa zona qua sopra. Spegniamo di nuovo la luce, così vediamo ora delle altre slide. E approfondiscono la parte più difficile da capire, che è come pulire la protesi avvitata. Ci sono dei fili che fa, per esempio, anche la tepe, che servono per andare a pulire. Hanno una parte rigida, come questa, che passa nel solco tra gengiva e protesi. Lo acchiappi, tiri e ti tiri dietro la spugnetta. Ok. Li trovate su Amazon. I don't tix. Sì, questi... Li puoi usare ancora un pochino, magari, però questi disinfettali un po', se no ti si inzuppano come le spugnetta del lavandino di batteri. Se no è meglio il monouso Superfloss. Ok, Superfloss, questi sono monouso, oppure quelli della tepe, che sono 180, mi sa, ce n'è in una scatola. 80 o 180? Questo è più grosso. L'altro è un po' più sottile. Per esempio, quello Oral-B, lo vedi qua sopra. È questo qua, l'Oral-B. Questo qua. Lo fa entrare. È lucido. Finché arrivi all'impianto, è lucido anche l'impianto. Vai dall'altro lato e lucidi l'impianto con la spugnetta. Non fa male. Dipende. Se non lo usi fa male. No, va usato. Anche se ti dà fastidio. Il primo periodo devi usarlo. Poi le gengive diventano callose a furia di traumatizzarle. Se non le usi, le gengive diventano invece irritabili, come le ragadi ti vengono in bocca. Questo è uno strumento che rimuove macro-meccanicamente. Ora, voi immaginate che avete la macchina sporca. Come la dovete pulire la macchina? Prima passa nell'idrogetto. Ok, poi la spazzola e alla fine il panno. Quella è l'igiene meccanica. La stessa cosa è per i denti. Puoi avere prima l'idrogetto che l'idropulsore. Poi devi usare gli spazzolini che rimuovono i detriti più piccoli e li staccano dalle superfici. E vai infine a lucidare nelle zone poco accessibili con questi fili. Uno non sostituisce l'altro. Quando poi c'è un periodo con i provvisori in cui le gengive calano, perché la normale retrazione è dovuta alla guarigione, lì si possono usare gli scovolini. E' meglio che ci sia spazio tra le protesi. Di contro noi abbiamo più problemi quando non c'è spazio rispetto a quando c'è spazio. Perché? Perché qua pulisce bene il paziente. L'altro non pulisce bene il paziente. Ha poi i problemi. E anche su, quando non hai dei denti, tuoi, ma hai questi. Gli scovolini. Gli scovolini sono questi, sì. Questo? Sui provvisori. Sui provvisori. I provvisori abbiamo tante volte, vi ho detto prima che ho qua le fotografie, di tutti i casi, problemi che si possono avere. Vediamo se trovo qua un provvisorio dove si è creato spazio. Ok, andiamo un po' avanti. Ah, quindi non è sempre solo se si crea spazio? Sì. Guarda qua, per esempio, questo paziente. Cosa vedi qui all'interno? Che tata? Eh, questo fuma, non pulisce. Ok, questi sono dei provvisori, non sono definitivi. Però se già noi dai provvisori vediamo questo, spia, qua c'è da migliorare qualcosa. Questo è un po' avanti.